Musica E' andata in scena il 16 maggio la seconda tappa del tour 2019 di ultimo che ha aperto uno spettacolo di due ore intense di musica con quella colpa delle favole che dà il titolo non solo al suo nuovo album di inediti ma anche allo spettacolo che ha segnato il tutto osaurito con mesi e mesi di anticipo nei palastetti dello sport di tutta Italia. Musica Anche se sembra essere passata un'eternità, in un anno e mezzo del suo esordio il cantautore romano ha conquistato una notevole padronanza del palco dal locale underground passato al Palace Port e il prossimo 4 luglio barcherà i tornelli dello Stadio Olimpico di Roma una scelta sorprendente Musica 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 In scaletta non potevano mancare i suoi maggiori successi. Da pianeti alle sarremesi il ballo delle incertezze e i tuoi particolari, che, come ogni altro brano targato da ultimo, trasmettono il più positivo dei valori del pop melodico italiano, ossia la canticabilità, che in un mediolanum forum di assago strapieno diventa travolgente onda d'urto di emozione. Grazie Grazie Grazie